Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene, per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Clas e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra. Un mestiere che prevede che tu abbia sempre la spada sul collo mentre stai lavorando è quello dell'allenatore, soprattutto in provincia, dove si è sviluppato un concetto stranissimo. Il garantismo per la società è invece la severità illimitata nei confronti del tecnico. Stiamo parlando chiaramente di semplici, stiamo parlando semplicemente di un allenatore che si ritrova a dover mettere insieme quelli che sono i giocatori che gli sono stati messi a disposizione. Teniamo conto del tempo, 14 giorni fa, ma con la possibilità di allenarli solamente per 6-7 giorni visto che poi molti sono arrivati, hanno lasciato le valigie qua, magari hanno trovato casa e poi sono partiti per la loro nazionale. Ecco, è bastato un errore o sono bastati una serie di errori, probabilmente motivati anche da quelle che sono apparenti giustificazioni ma che potrebbero anche essere motivi veri e cioè l'infortunio di Varoukiewicz, per intenderci, oppure anche qualche altro acciacco nel corso della partita, la stanchezza di Grassi che era da tempo che non giocava titolare e continuando per Renko. Ecco, messo da una parte quello che può essere l'errore fatto, quello di voler per forza utilizzare i nuovi arrivi e magari non tentare ancora di allungare la coperta corta come ha fatto per l'inizio della partita, c'è proprio la squadra di base che dimostra che è semplice, sta facendo un lavoro genuino se tu gli dai gli ingredienti a disposizione perché pur privo di Strotman, pur privo degli uruguayani perché non li ha presi in considerazione per i settitorali, pur privo di Godin senza Pavoletti all'ultimora, malgrado le assenze di questi giocatori per 60 minuti, noi abbiamo visto una squadra in campo messa bene e bella compatta. Questo a dimostrare che con i giocatori a disposizione il lavoro preparato è stato un lavoro genuino. Ecco, partendo da questo non possiamo non dare a semplici la possibilità insomma di giocarsi almeno 4-5 partite, soprattutto considerati due scontidetti casalinghi, Cagliari Empoli e Cagliari Venezia, perché possa dimostrare che con il tempo, con la possibilità di lavorare anche con i nuovi arrivi, lui è in grado di costruire un Cagliari che possa andare a concorrere per quello che è il suo obiettivo. Ricordiamolo, purtroppo solo la salvezza per effetto non tanto del valore della squadra che potrebbe anche esprimere poi successivamente valori superiori, ma per quelle che sono state le dichiarazioni, per quello che è stata la strategia adottata anche durante il mercato, con molti giocatori che si sono ritrovati a essere infelici della soluzione che poi è stata trovata, quella di rimanere a Cagliari ad esempio per moltissimi a cui era stato promesso la possibilità di andare da altra parte. Bene, dette queste cose lasciamo lavorare semplici. È vero, ha sbagliato domenica, ma avrà la possibilità di recuperare appena con tutti i giocatori potrà lavorare seriamente. Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene, per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini. Lasio Agricoltura SRL a Serramanna e Oristano. Passione per la terra. Grazie a tutti.